MIGLIOOR PAPA Sono con due grandissimi artisti di fama internazionale Questa sera ho l'onore di averli qui con noi Sono Anita e Kenny Loro hanno fatto una coreografia davvero meravigliosa Dal titolo Angeli e Demoni Vi faccio raccontare da loro come è nato questo progetto Questa è una coreografia, è un progetto che nasce insieme A una coreografa di fama internazionale Molto famosa nella nostra città Con la quale stiamo creando oggi Un episodio molto importante della nostra carriera Che è una compagnia di danza sulle danze latinoamericane Che si chiama Latin Cafe Questa coreografia nasce dall'idea E dalla voglia di mettere insieme i nostri percorsi In diversi tipi di danza Fare una sintesi dei linguaggi Dei diversi tipi di danza che abbiamo noi dentro Insieme alla nostra anima E al nostro più grande cuore per il latino Che noi, io come peruano E lei italiana che parla danze latinoamericane Da tantissimo Uniamo in questa coreografia Beh, progetti ce ne sono tanti Perché finalmente ho trovato un ballerino Insomma, col quale c'è del feeling Cioè, ci sono gli stessi obiettivi Che è la cosa più importante Avere degli obiettivi in comune Vi mandiamo un bacio grandissimo E regalati in grooving di Oana Non ho ben capito Che cosa Fabrizio stia facendo Ma Me lo dico io Salsa hit E sei a cavallo Sono con Melo Questa incredibile serata di face painting Grande successo per le tue creazioni Sono molto contento Molto soddisfatto della risposta Soprattutto della gente A questa serata Che è stata proposta come una novità Diciamo assoluta Quindi Viva il face painting Ma Che cosa mi hai fatto? Sul viso Tu giustamente fai parte del mondo latino E ti conosco da tantissimo tempo È stato una sorta di omaggio A quello che è un gruppo Che per noi Sia per me che per te È visto come una sorta di idolo Come una sorta di raggiungimento Che sono i Tropical Jam Una delle ballerine È truccata più o meno Come ha fatto Erika stasera Devo correre a vedere questa cosa E nel frattempo Vi diamo appuntamento molto presto Perché voglio fare una seduta di Body painting La facciamo? Assolutamente sì Grazie a tutti Ciao Erika Ciao ragazzi Grazie Video Go Ciao Ciao Matteo Alessandra Barberi La prima volta insieme Come vi siete incontrati E perché avete scelto di ballare insieme Alessandra l'ho conosciuta con te Nel tuo gruppo Ti ricordo di Me l'hai rubata No Poi l'ho vista con il gruppo di Anzi e Mario Ferrigno Ho visto che veramente A parte che è una bella ragazza Talentuosa Viene dalla danza Comunque sia Ha già una potenzialità E oggi giorno voglio farmi conoscere E grazie a lei Penso di aver scelto una partner Più che giusta Sicuramente non ci fermeremo qua Sarà un percorso molto lungo Perché Gio Matteo è un professionista E mi sa trasmettere tantissima fiducia e messenza E niente Spero di andare avanti Sia con lui Sia con il gruppo Io faccio parte anche del gruppo di Marco Ferrigno Ti ringrazio Erika per questa opportunità che ci stai dando Ma io ringrazio voi E faccio mandare un bacio da questa bellissima mia amica Ai nostri video spettatori Sì, molto bella È Sandra Bateri Buonissimo ragazzi E io? No No